La rugginita è bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Potremmo passarci su. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Dove sono? Sì. Come faranno? Faranno che? A prenderli la cura da me. Farà male? No, probabilmente ti faranno un preliavo di sangue. Non fa male. Ho già fatto delle iniezioni. E dei vaccini a scuola. Non mi è piaciuto. Ehi! Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo la bacia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutti le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Stammi vicino. Non ci sono corpi? È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Non ci siamo. Non ci sono. 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 Sono le luci. Non ci sono. Non ci sono. So dove andare. Non ci sono.